Grazie. Grazie a tutti. Quale forza aveva l'organizzazione di Cosa Nostra e quale fosse la strada giusta per combatterla, colpire i patrimoni, coglierne la forza imprenditoriale, un'eredità enorme, partita anche da questo palazzo millenario, storico, magnifico. Buongiorno a tutti, sono lì in fila ad ammirare questo palazzo. Saluto Patrizia Monterosso, presidente della fondazione Federico II, ricordiamo l'imperatore Federico II, un concentrato anche di idee che qui ha costruito la sua eredità. Più o meno, può piacere o meno, ma Federico II è stato un grande imperatore. Ricordiamo Piola Torre grazie alla fondazione e grazie al lavoro incredibile del centro Piola Torre e dal Caterpillar, Vitolo Monaco, che gestisce da tanti anni il centro studi. Non ho mai incontrato un uomo così travolgente, davvero. E allora, la nostra sarà una mattinata agile, dobbiamo dire tante cose, dobbiamo anche farvi vedere tante cose. E cominciamo dal messaggio del presidente della Repubblica, come dimenticare che Sergio Mattarella, il nostro capo dello Stato e fratello di Piersanti Mattarella, l'altro grande statista che non possiamo dimenticare e che proprio dallo scranno principale di questo palazzo, dall'assemblea regionale, pronunciò un discorso da statista che nessun siciliano può dimenticare, purtroppo stroncato, anche quello nel 1980 con un delitto del quale ancora non abbiamo capito tutto. Vi leggo il messaggio del presidente della Repubblica. Il quarantesimo anniversario della morte per mano mafiosa di Piola Torre di Rosario di Salvo ci ricorda il loro significativo esempio di impegno civico per le generazioni presenti e future. Il consolidamento della cultura della legalità esige il coinvolgimento dei giovani in iniziative che tendono a mantenere viva la memoria dei valori di chi ha pagato con la propria vita la testimonianza prestata per la difesa di radici essenziali della Repubblica, per la difesa della libertà e della giustizia. Nell'esprimere apprezzamento nei riguardi del progetto educativo antimafia e antiviolenza organizzato dal centro studi Piola Torre, contributo al radicamento di una ferma coscienza collettiva contraria a ogni forma di sopraffazione, mi unisco nel ricordo di Piola Torre e di Rosario di Salvo e rivolgo a tutti i presenti il mio caloroso saluto. Sergio Mattarella. Grazie presidente. E adesso il presidente, la presidente del Senato. E con sentimenti di forte partecipazione che invio il mio saluto in occasione di questo importante appuntamento dedicato a Piola Torre e Rosario di Salvo nel quarantesimo anniversario del loro brutale assassino ad opera della criminalità mafiosa. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere con voi oggi, ma desidero congratularmi con il presidente Vitolo Mona, col centro studi Piola Torre e tutti gli organizzatori per l'attenzione dedicata a questo significativo momento di confronto e riflessione tra istituzioni, scuole e società. Un'occasione solenne per rinnovare la forza morale dell'esempio civico che Piola Torre e Rosario di Salvo ci hanno lasciato in eredità insieme al loro immortale impegno al servizio della comunità. Ancora oggi la legge 646 del 1982 approvata dal Parlamento sulla base di un'iniziativa dell'onorevole Piola Torre costituisce una pietra angolare nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Un'autentica innovazione legislativa quanto culturale che oltre a fornire nuovi e potenti strumenti di indagine alla magistratura e alle forze dell'ordine, specie sul piano della confisca dei beni e dei patrimoni, ha permesso di comprendere le reali dimensioni sociali ed economiche del fenomeno mafioso, colpirlo dove era proprio più vulnerabile e infrangere quel muro di silenzio e omertà dietro al quale per anni aveva costruito il proprio potere. La commozione di questa giornata e il dolore che accompagna il ricordo di Piola Torre e Rosario di Salvo sono parte di una memoria collettiva che abbiamo il dovere di preservare e tramandare. Così come abbiamo il dovere di preservare e tramandare il ricordo di tutte le donne e degli uomini, delle istituzioni e delle società che hanno perso la vita nel loro impegno contro le mafie. Perché su quelle storie si consolida la forza identitaria di un popolo che crede fermamente nella legalità e nella giustizia e ne fa valori da difendere ogni giorno, cardini di una società sempre più libera dalla criminalità e dalla violenza. Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato. E adesso seguiamo, qui abbiamo un contributo video, il saluto da parte di Roberto Fico, Presidente della Camera. Il 30 aprile 1982 il deputato Piola Torre e il suo collaboratore Rosario di Salvo venivano assassinati a Palermo in un agguato mafioso. Ricordare quel tragico evento è un dovere. Piola Torre diede un contributo decisivo a far crescere quella coscienza civile e quella strategia politica necessaria per combattere il fenomeno mafioso. Lo testimoniano il suo impegno parlamentare, in particolare come membro della Commissione Antimafia e la legge che porta il suo nome, approvata pochi mesi dopo il suo omicidio. Con quella legge venne introdotto il reato di associazione di tipo mafioso che avrebbe consentito a magistrati come Falcone e Borsellino di istruire il maxiprocesso. E furono previste misure patrimoniali per colpire la mafia al cuore dei suoi interessi, facendo valere un principio di giustizia che oggi viene ribadito attraverso le numerose esperienze realizzate con l'uso sociale e produttivo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Beni restituiti alla collettività, a significare che la mafia può e deve essere piegata e sconfitta. In gioco non ci sono solo beni e capitali, ma principalmente la fiducia di poter gettare le basi di una società realmente libera e democratica, capace di demolire le disuguaglianze e di vanificare i tentativi della criminalità organizzata di insinuarsi nelle maglie più deboli della società. Ciascuna componente della comunità deve fare propria la cultura della legalità, in antitesi a ogni malaffare e clientelismo. In questo solco si pone il lavoro di tante realtà ed associazioni, come il Centro Piola Torre, che fanno della lotta alla criminalità organizzata la ragione del loro impegno civile. Sono esperienze che recano i segni della lezione di Piola Torre, un'eredità civile da cui trarne la forza necessaria per continuare con rinnovata determinazione nel contrasto ad ogni forma di mafia. E questo era il Presidente della Camera. Il saluto del Ministro per l'istruzione Patrizio Bianchi, gentile Presidente, desidero ringraziarla per il gradito invito a partecipare alla manifestazione conclusiva del progetto educativo antimafia in occasione del quarantesimo anniversario dell'assassinio politico mafioso di Piola Torre e Rosario di Salvo. Purtroppo improrogabili impegni istituzionali non mi consentono di partecipare. Tuttavia desidero esprimerle i miei apprezzamenti per l'iniziativa che assume un importante valore sociale, contribuendo a custodire la memoria di coloro che hanno agito con coraggio e determinazione contro la mafia e ogni forma di illegalità. È un profondo senso del dovere verso le istituzioni democratiche. Tale manifestazione ci ricorda come la legge Rognoni-La Torre sia diventata per lo Stato uno strumento di primaria importanza, non solo per contrastare e sconfiggere le organizzazioni criminali mafiose ma anche per affermare il valore della giustizia e per difendere i valori del nostro Paese nei quali i cittadini italiani devono continuare a credere e a riconoscersi. La scuola, battito della comunità, promuove i principi costituzionali della legalità, della solidarietà, della libertà e della democrazia motivo per cui è quotidianamente impegnata nell'educazione delle studentesse e degli studenti affinché non diventino indifferenti di fronte alle ingiustizie ma ricoprano un ruolo attivo nella costruzione di una società giusta. Desidero ricordare la figura di Pio, la Torre e Rosario di Salvo che con il loro alto senso delle istituzioni e con il loro autentico impegno civile continuano a testimoniare ai nostri giovani il fondamentale valore della dignità umana. Nel rinnovarle il mio ringraziamento per la vostra preziosa iniziativa desidero inviare a lei e a tutti i membri del centro Pio, la Torre alle delegazioni degli studenti italiani, alle istituzioni e ai rappresentanti delle organizzazioni sociali antimafia presenti all'evento i miei più cordiali saluti. Patrizio Bianchi. E allora abbiamo chiuso con i saluti delle massime istituzioni del nostro paese. Adesso anticipiamo un po' nella scaletta l'intervento dell'onorevole Enrico Letta segretario del Partito Democratico era qui a Palermo per impegni deve fuggire e quindi gli chiediamo un saluto qui sul palco. Grazie, è per me un grandissimo onore un grande privilegio poter qui in questo palazzo e in questo cortile così carico di storia esprimere semplicemente una parola di vicinanza di ringraziamento per lo straordinario lavoro che il centro Pio La Torre sta svolgendo un grande grazie a Vitolo Monaco alla sua straordinaria eccezionale attività ringraziarlo per quello che fa quotidianamente e per tutto l'impegno che mette ogni giorno perché la memoria di Pio La Torre sia ancora oggi un momento fondamentale nella vita del nostro paese voglio se mi permettete rivolgermi soprattutto agli studenti e dire a loro una parola fondamentale tante volte quando pensate partecipate a momenti di rievocazione di personalità che sono morte da molti anni rischiate di avere l'impressione di pensare a persone che sono diventate dei miti ma che non erano persone in carne ed ossa io vorrei invece chiedervi di pensare a Pio La Torre e a Rosario di Salvo come persone in carne ed ossa come se fosse vostro padre come se fosse vostro zio come se fosse vostro nonno una persona in carne ed ossa che in quel tempo così drammatico decise di non girarsi dall'altra parte quando la mafia in quel periodo era ancora e molto più cattiva di quanto purtroppo ancora oggi lo è quelle due persone Pio La Torre e Rosario di Salvo decisero di fare il loro dovere fino in fondo non si girarono dall'altra parte come alcuni gli avevano sicuramente suggerito pensa a te pensa alla tua famiglia cerca di dire le cose con meno forza e meno intensità pensa ai tuoi figli fatemi salutare Franco La Torre che è qui presente insieme a noi e Pio La Torre decise di non ascoltare quelle voci e disse a se stesso che il suo dovere di una persona che rappresentava le istituzioni era per l'appunto quella di onorare l'impegno l'impegno di parlamentare in quel momento e di fare di tutto perché quella lotta alla mafia arrivasse a dei risultati ancora più avanzati l'avete sentito nei saluti che hanno citato la più importante delle realizzazioni che oggi si lega alla figura di Pio La Torre la capacità che ebbe di trasformare e di dare più strumenti alla lotta alla mafia soprattutto sui temi economici io vorrei che voi alla fine di questa giornata pensasse soprattutto a questo punto di una persona che non si è voltata dall'altra parte troppe volte quando noi vediamo un'ingiustizia quando noi vediamo qualcosa che non va pensiamo prima a noi stessi ma se faccio qualcosa ci perdo qualcosa rischio qualcosa nel suo caso la scelta che fece l'ha pagata con la vita ma è stata una scelta che ha cambiato Palermo che ha cambiato la Sicilia che ha cambiato il nostro paese e io vorrei che ognuno di noi oggi abbia in mente la persona fisica in carne ed ossa di Pio La Torre come Franco ce la potrebbe oggi raccontare e pensando a quella persona in carne ed ossa ognuno pensi a se stesso come qualcuno che ogni momento che vede qualcosa che non funziona nella nostra società non si volta dall'altra parte fa il suo dovere che sia un singolo cittadino che sia il sindaco il presidente della regione che sia un parlamentare o che sia un magistrato un professore un commerciante non si volta dall'altra parte e se tutti insieme non ci voltiamo dall'altra parte la mafia perderà grazie grazie al segretario del partito democratico Enrico Letta vi vorrei dire che lì in quell'angolo c'è un banchetto di poste italiane ma ve lo dico perché perché c'è uno speciale annullo filatelico dedicato a Pio La Torre e a Rosario Di Salvo è molto bello se avete un attimo poi date un'occhiata e saluto anche i cari dipendenti di poste che sono qui con noi oggi pomeriggio e allora abbiamo concluso con la prima parte dei saluti adesso sentiamo un saluto molto particolare da New York da Maurizio Massari rappresentante permanente dell'Italia alle Nazioni Unite un intervento breve ma molto efficace è importante in questo momento anche ascoltare la voce delle Nazioni Unite in un momento così delicato per il mondo intero in cui si combatte una guerra e il rischio che le armi possano risuonare più forti è purtroppo concreto insomma siamo tutti abbastanza spaventati sentiamo Maurizio Massari in questo messaggio Autorità Gentile Autorità Gentile Presidente Lomonaco care studentesse e studenti sono onorato di intervenire alla manifestazione per il quarantennale dell'uccisione di Piola Torre e del suo autista Rosario Di Salvo la sua eredità e la sua memoria sono vive e forti qui a New York e sul piano multilaterale vorrei citarne tre principali manifestazioni innanzitutto la legge 646 del 1982 sul reato di associazione mafiosa nata su proposta di Piola Torre e ancorata ai suoi ideali di democrazia eguaglianza e giustizia questa legge ha ispirato in ambito onusiano la convinzione sul crimine organizzato transnazionale aperta la firma Palermo nell'anno 2000 oggi è stata ratificata da ben 190 stati la quasi totalità dei paesi del mondo ricordo poi la risoluzione adottata viene presentata dal nostro paese per celebrare il ventesimo anniversario della convenzione di Palermo una risoluzione ribattezzata risoluzione Falcone sia per il riferimento normativo alla figura del magistrato sia per il complesso delle misure in essa dettagliate infine ricordo la risoluzione promossa annualmente dall'Italia qui a New York per il rafforzamento dei programmi delle Nazioni Unite in tema di prevenzione e giustizia criminale essa invita i 193 stati membri a intensificare la cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione di tutte le forme di criminalità organizzata inclusa quella transnazionale vorrei esprimere la mia gratitudine anche al centro di studi e iniziative culturali Pio La Torre la cui meritoria azione è testimoniata dal suo status consultivo al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di cui l'Italia è attualmente membro per il triennio 2022-2024 come diceva Giovanni Falcone gli uomini passano le idee restano e continuano a camminare sulle gambe e di altri uomini Viglian Questo era l'ambasciatore Maurizio Massari adesso sono protagonisti i ragazzi il vero cuore di questo progetto il video arrivato terzo nella classifica composta dal centro Pio La Torre in questo concorso che ha visto la partecipazione di tantissime scuole italiane il terzo classificato è stato realizzato dagli alunni dell'istituto Cascino di Palermo è un video che ci racconta il risultato della gestione di un bene confiscato il risultato che ha dato luogo e spazio a forme d'arte che non lo avevano in passato e quindi vediamo Buongiorno sono Maddalena dell'istituto Francesco Paolo Cascino di Palermo siamo qui oggi a Villa Pantelleria bene confiscato alla mafia con il maestro Lollo Franco Buongiorno Buongiorno benvenuti a Parco Villa Pantelleria bene confiscato alla mafia il comune l'ho affidato a noi circa 15 anni fa e io qui portai i detenuti a fare un mio spettacolo che si chiamava Il Giullare questo era una sorta di discarica a cielo aperto abbiamo ripulito tutto e abbiamo invitato la città e quindi questo bene in questi 15 anni l'abbiamo restituito alla cittadinanza a tutti è un bene che appartiene a tutti l'abbiamo fatto per questo e lo abbiamo fatto attraverso la cultura e in questo bene confiscato abbiamo fatto pure una scuola di teatro per bambini adolescenti ragazzi adulti e sognatori e quindi vedete quanta restituzione e quanta contatto c'è con le persone che vivono all'interno di Parco Villa Pantelleria che era abbandonato chiuso e perché era stato sequestrato alla mafia e quindi questo un po' ci inorgoglisce di un po' io con i detenuti di Ucciardona abbiamo messo in scena Pio la torre che è dalla parte giusta di Pertiera ed è stato rappresentato da tutti i detenuti uomini e donne fatte da detenuti e ovviamente era organizzato dal centro studi Pio la torre e di questo è una cosa che vorrei forse nel tempo fare qui in questo bene confiscato con i detenuti che molti di loro adesso sono liberi cittadini grazie Lollo Franco questo bene sequestrato e poi restituito alla comunità è frutto della legge sul sequestro dei beni mafiosi fortemente voluta da Pio la torre è molto bello per me che faccio la giornalista da 34 anni vedere questi ragazzi che si cimentano e che hanno voglia di fare un po' questo mestiere che ha bisogno di nuovi giornalisti e anche di nuovi editori per la verità bravi ragazzi allora chiamo qui il vicepresidente della regione Gaetano Armao per un saluto è bello vedere tanti turisti in questo palazzo ho cominciato qui a fare la giornalista a seguire la politica e prima questo era solo un palazzo della politica adesso finalmente ci sono i turisti prego vicepresidente io porto il saluto al presidente Musumesci e di tutto il governo regionale l'iniziativa di oggi il ringraziamento al Vito Lomonaco un amico di tanti anni che guida il centro Pio la torre e un saluto a Franco la torre nel giorno nel quale commemoriamo 40 anni dell'uccisione di Pio la torre e Rosario di Salvo mi capita spesso di studiare atti parlamentari di tanti anni fa e vedete ragazzi occorre fare memoria non solo commemorare ma fare memoria fare memoria vuol dire riscoprire le parole i pensieri i sogni delle persone che non ci sono più Pio la torre il 23 aprile del 1964 interveniva pesantemente sul sacco di Palermo quella città che vedete devastata cementificata con speculazioni edilizie drammatiche che fu frutto di un coacervo di una convergenza di interessi politici mafiosi ma anche di tanta borghesia di tanta nobiltà palermitana perché quella villa che vediamo oggi sequestrata a un mafioso non ne apparteneva a un mafioso da 200 anni il mafioso l'aveva acquisita perché qualcuno gliela aveva venduta oppure il mafioso aveva costretto quella persona a vendergliel gli ettari di Palermo cementificati sono stati venduti perché conveniva farlo la mafia aveva consenso e Pio la torre non ebbe alcuna paura ad affrontarla facendo nomi e cognomi in quell'intervento del 23 aprile additando coloro che speculavano additando i politici Ciancimino Lima e Gioia additando i funzionari del comune di Palermo che rilasciavano migliaia di concessioni edilizie a due persone un carbonaio ed un muratore che ebbero migliaia di concessioni edilizie ecco la straordinaria forza di Piero Torre fu quella di combattere quel consenso che la mafia carpiva quel consenso che la mafia sosteneva per portarlo verso la libertà ecco ragazzi quindi non c'è solo questo quel mafioso quelle persone sono quasi tutte morte chi ingalera chi ucciso anche se politico chi è morto nel suo letto con tanti soldi accantonati però la città devastata resta la nostra città cementificata resta ecco la libertà che voleva pensare alla quale voleva guidare i siciliani Piero Torre deve passare attraverso un riscatto che quel consenso alla mafia non darà mai più grazie a Piero Torre e al lavoro che ha fatto grazie grazie vicepresidente adesso chiamo Claudio Fava presidente della commissione antimafia del nostro parlamento siciliano Claudio Fava ha perso il padre per mano mafiosa non lo dimentichiamo mai è mosso da un talento personale ma è mosso anche da questa vicenda personale io penso che Enrico Letta abbia detto una cosa importante oggi quando ci ha chiesto e quando vi ha chiesto parlando soprattutto ai ragazzi di ricordare Piola Torre da vivo perché ciò che dobbiamo apprezzare non è soltanto il modo in cui queste persone sono venute a mancare ma il modo in cui vissero che è la ragione per cui morirono e la lezione umana e politica di Piola Torre è una lezione preziosa perché di straordinaria attualità il metodo che Piola Torre ci ha proposto che è quello di una politica volta non tanto alla ricerca del consenso quanto alla ricerca della verità un metodo che si è fatto pazienza puntualità rigore sobrietà su internet potete trovare traccia corposa della relazione di minoranza che la Torre firmò assieme agli altri parlamentari del gruppo comunista in commissione antimafia negli anni settanta quella relazione di minoranza accennava adesso il vicepresidente della regione Armau è un ritratto autentico e spietato di cosa fosse la Sicilia e di cosa fosse soprattutto Palermo in quegli anni ma c'era una qualità in quel lavoro che era stato costruito giorno dopo giorno dalla Torre dai suoi compagni e dai suoi collaboratori senza avere a disposizione quello che oggi appartiene a noi sentenze il lavoro dei magistrati le inchieste giudiziarie un vissuto giudiziario che racconta cosa sia stata e cosa sia la Sicilia ancora prima che il nostro sguardo interrochi questo tempo in quegli anni non c'erano sguardi non c'erano sentenze non c'erano atti istruttori ci fu il lavoro sobrio puntuale tenace che fu fatto e che trovò compimento in quella relazione ecco noi siamo orfani anche di quella idea di metodo di sobrietà di tenacia di puntualità della politica e della funzione della politica la Torre ci ha lasciato una legge preziosa che ci invidia tutto il mondo che consente togliendo i beni ai mafiosi di togliere l'ossigeno del quale non possono fare a meno perché la loro necessità è quella del profitto e dell'impunità ma è anche vero che oggi grazie a questa legge abbiamo per esempio in Sicilia 1600 aziende confiscate con un tasso di mortalità per queste aziende che viaggia sopra l'80% la Torre ci lascia un'eredità che sarà difficile ed è difficile gestire occorre essere all'altezza di questa eredità fare in modo che di questi strumenti non resti soltanto l'eco d'immagine nobile e distante ma uno strumento una pratica utile oggi come ieri più di ieri per colpire le mafie io penso che sia questo il modo per ricordare nel migliore e nella più autentica delle forme più la Torre e per ricordare soprattutto come visse perché ciò che deve arrivare dalle storie di chi non c'è più per questi ragazzi è ciò che fecero da vivi è ciò che ci insegnarono vivendo in quel modo grazie grazie a Claudio Fava che ha toccato un tasto molto delicato la gestione dei beni confiscati talvolta finiti nelle mani sbagliate e nella gestione ancora un po' di ritardo dobbiamo proprio ammetterlo chiamo il prefetto Giuseppe Forlani qui per un saluto e saluto anche le altre istituzioni ho visto il questore Laricchia il comandante provinciale dei Carabinieri il sindaco di Palermo di Luca Orlando ho visto il capogruppo del PD Giuseppe Lupo Caterina Chinnici europarlamentare che saluto perché sulle sue gambe c'è l'eredità del padre che ha inventato il pull antimafia e nel quale hanno lavorato Falcone e Borsellino prefetto Sì buongiorno nella presentazione di questo mio intervento credo ci sia anche il significato di questo momento a 40 anni di distanza dall'assassinio di Piola Torre e di Rosario di Salvo ecco io credo di poter parlare a nome del sistema delle istituzioni oggi che insieme alle forze politiche insieme ai cittadini si oppongono alla mafia in particolare la prefettura ha la responsabilità quotidiana ormai evoluta nel corso di questi 40 anni di dare attuazione alla normativa introdotta con la legge Pio la Torre Rognoni proprio in materia non soltanto di gestione e di destinazione dei beni confiscati ma soprattutto di prevenzione amministrativa antimafia è un fronte estremamente complesso che forse in questi anni poi con il codice antimafia da ultimo è più soggetto agli interventi di adeguamento perché come abbiamo più volte detto è la prima frontiera di contrasto al tentativi della mafia di occupare gli spazi di appropriarsi delle risorse pubbliche è un lavoro che deve basarsi naturalmente sulla collaborazione anche dei contesti i prefetti approfondiscono con le forze di polizia tutti gli elementi che possono identificare questi tentativi ma vengono calati nella realtà e la realtà siciliana è sicuramente diversa dalla realtà delle altre regioni italiane questa è stata l'altra grande introduzione dell'intuizione di Pio da Torre ma direi anche di Carlo Alberto dalla Chiesa e di quanti si sono poi impegnati perché effettivamente il fenomeno mafioso non continuasse a essere circoscritto a un territorio specifico abbiamo visto l'intervento delle Nazioni Unite del delegato delle Nazioni Unite che dimostra ormai la dimensione internazionale della mafia quindi la sfida è molto importante l'azione che noi svolgiamo è un'azione attenta deve essere attenta concludente e soprattutto efficace oggi nel momento in cui stanno partendo tutti i programmi del piano nazionale di ripresa e resilienza questa è un'attività ancora più importante voglio concludere sottolineando la collaborazione col centro studi Pio da Torre che in questi ultimi anni almeno per quanto riguarda la mia esperienza è stato un partner un punto di riferimento proprio per approfondire i temi che sono stati ora detti mi riferisco per esempio ai beni confiscati e alla necessità di adottare provvedimenti di carattere normativi regolamentare per i comuni per consentirne l'adozione ma non soltanto l'attività che svolge a favore per esempio a sostegno nei comuni nelle comunità nei comuni che sono stati sciolti per mafia è anche quello un contributo estremamente importante perché l'azione delle commissioni straordinarie non può essere disgiunta da un'azione nelle comunità perché una volta conclusa l'esperienza commissariale effettivamente le condizioni di operatività e di libertà delle amministrazioni nel loro operare possa essere svolta al meglio quindi nel ricordo di Pioratore di Rosario di Salvo ma direi oggi consentitemi soltanto questo in conseguenza di quel drammatico omicidio si insediava stasera alle 19.20 nella città di Palermo come prefetto di Palermo il generale Carlo Alberto dalla Chiesa e alla sua nomina non era stato estraneo proprio Piola Torre è noto che nel mese di marzo del 1982 fu lui insieme a una delegazione del Partito Comunista a proporre al Presidente del Consiglio Spadolini la figura di Carlo Alberto dalla Chiesa come colui che avrebbe potuto ribaltare quella che era in quel momento la risposta dello Stato alla violenza mafiosa quindi il suo arrivo a Palermo coincide con la morte di Piola Torre di cui era amico si erano conosciuti naturalmente durante le sue esperienze siciliane ma soprattutto credo condividessero elaborassero insieme quelle che poi fu il disegno di legge presentato e il disegno di legge poi successivamente approvato e lì nasce questa forza che oggi dobbiamo testimoniare di questo forte collegamento tra la risposta istituzionale di Polizia della Magistratura con la comunità con le persone ed è questo l'aiuto che fu richiesto credo che questo sia il lascito che oggi dobbiamo coltivare perché continui questa collaborazione stretta che possa in questo modo mantenersi forte la risposta contro la mafia grazie un saluto anche da parte del sindaco di Palermo Leo Luca Orlando Buongiorno proverò a parlare ai ragazzi e alle ragazze che sono presenti continuando un dialogo che è iniziato ieri mattina nello spazio dedicato a Rosario Di Salvo nel cuore del quartiere Noce uno spazio recuperato grazie all'impegno di tutti grazie all'impegno anche dei ragazzi delle scuole e del quartiere e voglio proprio rivolgermi a loro col permesso di tutte le autorità presenti perché credo che il senso di questo incontro è di parlare di futuro non è certamente quello di ricordare soltanto è di parlare di futuro e vogliamo provare a indicare quali sono i temi di futuro più importanti per i giovani vogliamo provare a parlare dell'importanza della pace vogliamo provare a parlare dell'importanza dei diritti vogliamo provare a parlare dell'importanza del lavoro dell'economia io credo che siano questi i temi di futuro i temi che riguardano la pace i diritti che riguardano l'economia e il lavoro ricordare Rosario Di Salvo ricordare il piruatore e ricordare quanto sia importante per il futuro la pace importante per il futuro i diritti importante per il futuro l'economia e il lavoro perché più la torre ha dedicato la sua vita e ha perso la vita per tutte e tre queste ragioni perché si è creato assieme con Rosario Di Salvo un consorzio possiamo dire così vedo qua Franco e Tiziana che sono uniti nel ricordo del loro rispettivo genitore si è creato un'alleanza un consorzio una solidarietà che riguarda e riguardava i temi della pace temi di grande attualità in un tempo in cui c'erano i blocchi contrapposti ebbene in un milione abbiamo sottoscritto al di là dei posizioni politiche quell'appello per dire no ai missili a comiso abbiamo detto per dire no a quei missili a comiso che sono un monito perché guardate la guerra in Ucraina sta facendo perdere la prospettiva universale dei temi della vita noi rischiamo di essere ricacciati indietro nel tempo dei corpi separati nel tempo della guerra fredda nel tempo delle contrapposizioni un tempo che sembra lontano lontanissimo rispetto all'enciclica fratelli tutti di Papa Francesco e allora ricordare la torre ricordare l'osservo di Salve ricordare l'importanza della pace i diritti come non ricordare l'importanza dell'impegno per i diritti e quanto sia importante rispetto dei diritti per il futuro il diritto di libertà il diritto di manifestazione del pensiero quei diritti che venivano conculcati dalle organizzazioni criminali mafiose da quei consorsi criminali dei quali il pilatore intuì la forza più importante il vincolo il vincolo era il vincolo la differenza che esiste e che esisteva tra la normale criminalità e la mafia perché nella normale criminalità non c'è il vincolo nella mafia c'è il vincolo ed è quel vincolo che rende la mafia una sorta di alternativa rispetto allo Stato l'alternativa rispetto alla famiglia l'alternativa rispetto alla scuola l'alternativa rispetto ad ogni altra realtà che produce vincolo e lui comprese che bisognava colpire il vincolo il 416 bis che sostanzialmente è il fondamento di tutti i successi che si sono conseguiti in questi ultimi 40 anni nella lotta dalla mafia e infine il tema dell'economia quel tema dell'economia che la Buda aveva presente che differenza c'è tra l'occupazione della terra da parte dei braccianti e la confisca dei patrimoni mafiosi da parte dello Stato c'è una linea di continuità c'è una linea di continuità che è la storia e l'esperienza di Pio La Torre quella storia e quell'esperienza di Pio La Torre che comprese che era molto più pericoloso un mafioso in carcere che manteneva il suo patrimonio di quanto non fosse invece un mafioso libero senza il suo patrimonio cioè intuì che il fondamento del potere criminale stava nel potere economico stava anche in quella complicità che costituisce la vera piaga di questo nostro paese perché non si poteva uccidere Pier Santi Mattarella senza la complicità della politica senza che Ciancimino e gli altri suoi mafiosi amici decidessero consentissero che si realizzasse quell'omicidio non si poteva uccidere Pio La Torre senza il consenso della politica non si poteva uccidere il generale della chiesa senza il consenso della politica perché 40 anni fa ragazzi Palermo aveva il volto della mafia aveva il volto dei vescovi dei procuratori dei poliziotti dei sindaci se noi dimentichiamo quello che era Palermo 40 anni fa non saremo mai capaci di costruire il futuro e non riusciremo mai ad avere l'intransigenza che uomini prima di noi hanno avuto dando e perdendo la vita si comprende perché quando si parla di lotta la mafia bisogna mettere insieme la dimensione internazionale la dimensione politica e la dimensione economica se qualcuno pensa di combattere la mafia prescindendo dalla dimensione internazionale o da quella politica o da quella economica evidentemente fa ricordo ma non fa memoria di Pio La Torre e di Rossario di Salvo abbiamo un quadro chiaro di quello che è accaduto e mi rivolgo ai ragazzi dobbiamo rivolgere un applauso ai ragazzi perché sono al sole adesso sono al sole e allora andiamo avanti col secondo classificato la scuola Sciascia Fermi di Sant'Agata di Militello dov'è? ci sono i ragazzi? ci sono eccoli là allora questo è il vostro lavoro ragazzi secondo classificato siamo sul treno stiamo per arrivare a Casta di Tusa lì incontreremo Antelopresti e faremo le nostre domande successivamente visiteremo la delerso al mare oggi con la recente crisi sanitaria è una guerra che ormai alle porte dell'Europa si fa sempre più urgente una cura cura per il paesaggio in che modo l'arte può ricollegarsi a una cultura di pace quando la pianta è ammalata uno pensa alla cura e quando la pianta guarisce da quella cura è sempre una pianta che si è sanata oggi penso che in questa contemporaneità la pianta è ammalata ma non ha bisogno ma non ha bisogno di cura ha bisogno di innesto l'innesto trasforma anche quella stessa pianta in un'altra pianta e la renderà forse ancora più forte lei ha puntato l'attenzione sulle periferie che sono piene di umanità ma anche molto spesso diciamo abbandonate può secondo lei l'esperienza di Librino essere replicata anche nel nostro territorio ecco nelle periferie in quei luoghi di mancamento non c'è bisogno di riabilitare i ragazzi di quel luogo c'è bisogno di dare anche quel senso di diritto alla cittadinanza che passa solo dal più grande potere che l'uomo ha a disposizione che si chiama la conoscenza più scegliamo la conoscenza e più saremo cittadini liberi la democrazia viene messa in discussione quando avanza la dittatura dell'ignoranza e oggi c'è un allarme ma speriamo che voi nuova generazione scegliete questo potere superiore la schiavitù è l'ignoranza la conoscenza è la libertà lei spesso parla di condivisione della bellezza ma per condividerla bisogna riconoscere come secondo lei ci si dovrebbe impegnare per la condivisione della bellezza nelle scuole? il più grande male di ognuno di noi nel percorso della conoscenza si chiama ego quando noi scegliamo di conoscere l'esistenza attraverso la nostra egocentricità non guardiamo più oggi il male è la cecità gli occhi guardano e non vedono è ormai un'utopia cercare di cambiare questa terra che è stata considerata per tutti questi anni una terra fondamentalmente di mafia e per questo che siamo conosciuti in tutta Italia forse in tutto il mondo forse più che utopia dobbiamo parlare di eresia l'eresia è quel valore di differenza che fa la differenza e consegna la visione del futuro quindi non è più il tempo dell'anti ma è il tempo del costruire del per e le utopie prendono forma e corpo non dobbiamo essere mai contro ma sempre per costruire il futuro si sono dedicati alla fiumara d'arte è un posto bellissimo complimenti ragazzi e complimenti colleghi vorrei dire allora Piola Torre è stato sindacalista prima di approdare in Parlamento ed è stato un sindacalista particolarmente efficace e quindi giusto il ricordo da parte della CGL il sindacato cui aderì e il ricordo è affidato al segretario generale della Sicilia Alfio Mannino ma la fase in cui ricade la celebrazione del quarantesimo anno dell'uccisione di Piola Torre è una fase che rende sempre più attuale il pensiero di Piola Torre il Piola Torre che seppe legare la lotta alla mafia alla battaglia per lo sviluppo alla crescita ma soprattutto il Piola Torre che aveva la consapevolezza che la pace era il presupposto per costruire una Sicilia migliore una Sicilia che potesse in qualche modo provare ad essere il luogo dove i ragazzi e le ragazze potevano costruire il loro futuro e il Piola Torre era anche il Piola Torre che con l'occupazione delle terre aveva la consapevolezza che dando e ridando dignità al lavoro alla qualità del lavoro quella che oggi è lo sfruttamento che è una grande piaga che attraversa l'economia del nostro tempo che ridando dignità al lavoro si poteva e si doveva costruire una Sicilia migliore guardate veniva ricordato noi il 5 aprile siamo stati a Comiso il 4 aprile siamo stati a Comiso assieme all'associazione Piola Torre assieme a tanti altre associazioni e quel momento non era soltanto un momento celebrativo per ricordare la grande manifestazione a cui 40 anni fa diete vita Piola Torre noi abbiamo voluto voler mettere in campo quel momento per affermare innanzitutto che ancora oggi la Sicilia è terra di pace ma soprattutto perché lì ci siamo assunti un impegno di andare in tutti i luoghi di lavoro per andare scuola per scuola per far passare il messaggio che attraverso il pensiero e l'azione che Piola Torre ha sviluppato potremmo davvero provare a costruire una terra e una Sicilia migliore e l'impegno di tutti noi deve essere quello di andare appunto luogo di lavoro per luogo di lavoro scuola per scuola per far crescere quel pensiero politico quella cultura politica che possa essere il presupposto per costruire una Sicilia appunto migliore e di quella Sicilia migliore i protagonisti debbono essere i ragazzi e le ragazze che con questi splendidi lavori che qui ci hanno consegnato ci dicono anche un'altra cosa che la lotta alla mafia che il contrasto alle diseguaglianze che la lotta per la pace passa anche attraverso la bellezza quella bellezza che noi dobbiamo avere la forza il coraggio e soprattutto il grande amore per la Sicilia di preservare e io credo che questi lavori siano un grande atto d'amore che questi ragazzi e queste ragazze hanno fatto in favore della Sicilia e dei siciliani grazie ad Alfio Mannino e adesso un momento più delicato quello della testimonianza di Tiziana Di Salvo e Franco Latorre cominciamo da Tiziana Di Salvo che ci ricorderà suo padre sono sempre momenti in cui persino una giornalista navigata come me si fa scudo del pudore perché il dolore il lutto sono cose che richiedono una elaborazione molto individuale e però avere la forza di ricordare il proprio genitore è una grande cosa prego grazie buongiorno a tutti sono passati 40 anni da quel 30 aprile del 1982 io ero una ragazzina avevo 11 anni mio padre era un ragazzo aveva 36 anni e tre figlie piccole però nonostante ciò nonostante i rischi nonostante le minacce accompagnato e ha trascorso insieme a Piola Torre gli ultimi drammatici mesi della loro vita chiaramente loro sapevano di essere minacciati di essere un bersaglio della mafia erano quasi indifesi nei confronti della mafia e in effetti l'attentato ha posto fine alle loro vite sono riusciti mio padre è riuscito anche a prendere una pistola forse e sparare ma ovviamente non avevano non avrebbero avuto scampo i giornali titolarono allora un militante che poteva essere un dirigente mio padre si permetteva di dare a volte consigli anche ai dirigenti forse forse sarebbe potuto diventare un dirigente avrebbe potuto lavorare insieme a Piola Torre non lo sapremo mai io oggi vorrei ringraziare tutti per essere qui ringrazio Vitolo Monaco il centro Piola Torre ringrazio tutte le autorità che sono presenti soprattutto quelle che vedo ogni anno voglio ricordare voglio ringraziare per tutti il sindaco Orlando Nino Mannino voglio ringraziare soprattutto i giovani perché chiaramente il futuro adesso è nelle loro gambe a nome mio e della mia famiglia vi abbraccio tutti grazie grazie Tiziana Franco La Torre abbiamo bisogno anche di sue parole persone che hanno coltivato un grande coraggio nonostante a mio avviso nel caso di Franco La Torre una grande timidezza per questo gli farei anche un altro applauso anche perché somiglia tanto a suo papà sì grazie grazie di cuore per essere tutti qui oggi ragazze e ragazzi grazie al centro Piola Torre che da anni si impegna non solo in questa occasione ma dispiega durante tutti gli altri giorni dell'anno un'attività di sensibilizzazione diffusione proposta e sollecitazione su quello che si riassume nel sacrificio di Rosario e Pio in quei mesi in cui mio padre tornò a Palermo dall'ottobre dell'81 al 30 aprile non voglio dire che ero geloso però ero perfettamente consapevole che che Rosario e Pio passavano più tempo insieme loro che con le loro rispettive famiglie vero Tiziana eh ne avevano cose da fare cose di cui parlare come ha detto il sindaco Orlando 40 anni fa a parlare di mafia in questa città nei salotti della buona borghesia si poteva ascoltare qualcuno che diceva sì la mafia è un fenomeno antropologico della cultura siciliana il senso dell'onore la famiglia oppure ascoltare qualcuno che diceva sì ma è anche un tratto psicologico la mafiusa la ragazza volitiva che le cose non se le fa dire dietro o avremmo potuto sentire anche chi avrebbe affermato che la mafia non esisteva era un'invenzione dei comunisti e infatti questa terra era la terra della mafia e l'Italia veniva rappresentata nella percezione internazionale come il paese della mafia 40 anni dopo l'Italia è il paese dell'antimafia ma non solo grazie a quegli strumenti alla capacità di azione di contrasto e di repressione delle istituzioni che fanno un lavoro straordinario ma grazie a tutti voi perché è la coscienza civile che in questi 40 anni è cresciuta ha superato lo stretto ha invaso tutta l'Italia questo grazie anche al sacrificio di Rosario e Più ci hanno consegnato i presupposti per fare dell'Italia un paese migliore e un record indiscutibile mio padre amava dire che la lotta contro la mafia è parte della più generale battaglia per la difesa della democrazia perché è stato già accennato permettetemi di ripeterlo perché essere contro la mafia lo si è perché si ha a cuore la costituzione di questo paese perché quel sistema di potere politico mafioso fa strame dei diritti fondamentali della nostra costituzione il lavoro è un favore e chi te lo concede gentilmente vuole in cambio il tuo voto due diritti fondamentali via e se vuoi fare impresa devi pagare il pizzo un altro diritto fondamentale via e se vuoi esprimere liberamente le tue opinioni l'articolo 21 lo sanno bene i giornalisti uccisi sotto scorta il diritto alla salute i direttori delle asle nominati da quel sistema di potere non hanno a cuore la nostra salute ma quella delle imprese del loro sistema che devono vincere gli appalti il diritto a vivere in un ambiente sano la terra dei fuochi basta per tutti il diritto a vivere in sicurezza e potremmo continuare questa lunga lista per questo la lotta contro la mafia fa parte della più generale battaglia per l'affermazione dei diritti costituzionali e infine un lascito a tutti voi ragazzi come è stato detto mio padre era figlio di contadini poveri nato il secolo scorso tra due guerre mondiali il suo destino come quello del padre del nonno era fare il bracciante ebbene grazie alla sua famiglia al suo segno che ha ricevuto alla sua tenacia quel figlio di contadini poveri destinato a fare il bracciante è diventato quel Piola Torre che voi avete conosciuto se il destino ragazzi che vi è stato assegnato non vi piace potete cambiarlo e potete scegliere quello che volete fare non state a sentire quelli che vi dicono eh no non è possibile ma no lascia perdere noi adulti in genere abbiamo questo ruolo quello di farvi ragionare ma voi dovete pensare al vostro futuro al futuro di questo Paese cambiatevi il destino diventate padroni della vostra vita grazie grazie Franco grazie e allora i detenuti del penitenziario di Bicocca a Catania hanno partecipato fuori concorso a questa competizione ed ecco il loro lavoro Nicola te la posso fare una domanda dimmi se dovessi rappresentare la mafia attraverso un'immagine cosa penseresti? ma penserei a una grande piramide con in alto al vertice un grande cervello e alla base degli uomini e robot che che non sempre si rivelano semplici esecutori di ordine ma te la posso fare un'altra domanda eh vado hai mai avuto comportamenti mafiosi? alcune volte quando ho adottato comportamenti aggressivi e prepotenti per fare valere le mie ragioni a tutti i costi Sandro ma adesso te la posso fare una domanda dimmi dimmi quali comportamenti bisogna adottare per evitare il propagarsi di una mentalità mafiosa? bisogna agire in diverse direzioni intanto quando ci si trova in una situazione di grande difficoltà bisogna trovare la forza di chiedere aiuto evitando di preoccuparsi ciò che non ci appartiene inoltre bisogna seguire esempi positivi di comportamento e non lasciarci convincere da chi ci propone guadagni facili soprattutto se a proporcioli sono adulti senza scruco infine accettare un lavoro qualsiasi esso sia purché sia onesto e dignitoso ragazzi mi viene in mente un'altra domanda parlare di mafia suscita reazioni contrastanti molti infatti dicono la mafia è bella ma cosa può avere di bello un comportamento che limita la libertà e la vita degli altri? di bello ci possono essere soldi facili è che è una vita breve e intensa e si vive male in uno stato di ansia perenne però che vita è senza libertà Sandro un'altra domanda chi ha perso la vita per combattere la criminalità organizzata deve essere considerato un eroe un fesso o una persona normale? secondo me è una persona normale ma poiché non tutti fanno la loro parte la persona diventa eroe o rischia di diventare un signor nessuno uno che non esiste Sandro quale messaggio intendi lasciare il testo questo è il nostro viaggio? il testo vuole dirci che il cambiamento non avviene se parliamo solamente invece di noi giovani possiamo favorire il cambiamento modificando il nostro modo di pensare con l'aiuto responsabile di tutti la parte finale del testo contiene uno slogan pieno di fiducia e speranza ci vuole voto ci vuole voraccia non ci adeguiamo questo è il nostro viaggio e bla e bla 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 con la chiacchiera non si va il cambiamento non avviene se ce ne andiamo a vento tenere allora resta stay stay don't go away e bla e bla 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 passo dopo passo incomincia a seminare piano piano una mano dalla mano con il cuore costruiamo relazioni sorrisi energie fonti di pace lucente bellezza pace fiducia credito di me grazie e bla e bla don't go away mettiti in gioco non star a doziare prendi la vita rendila viva vivi la vita con ardito coraggio ascolta le voci dell'antico canto suona il tuo salmo accogli il tuo santo e bla e bla 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 allora resta stay stay don't go away non più silenzio di omertà abusivo potere davidità valori robusti risposte certe allora resta stay stay don't go away ci vuole cultura ci vuole coraggio non ci tendiamo questo è il nostro viaggio giovani che stanno provando a cambiare vita e allora adesso chiamo Vitolo Monaco sul palco il motore delle azioni il coltivatore diretto della memoria di Piola Torre Rosario di Salvo grazie io vorrei brevissimamente naturalmente spiegare perché noi da qualche anno nella questa ricorrenza facciamo concludere e parlare i giovani come relatore della manifestazione anche nella precedente manifestazione fatta qui questo bel cortile grazie alla collaborazione della presenza dell'assemblea e della fondazione Federico II che ringrazio per la collaborazione attiva per la promozione di questo luogo come luogo appartenente a Piola Torre è stato deputato per diverse legislature qui iniziato nel 63 poi fino al 72 ed è stato quindi la sua casa per affermare il diritto che questa non è la casa della mafia come lo è stato anche in certi periodi la casa anche dell'antemafia e vorrei ricordare la successione degli eventi che questo anno 2022 che difficilmente dimenticherete cari ragazzi rappresenta sono 40 anni dell'assassinio politico mafioso violatore Rosario di Salvo sono 40 anni della legge che fu approvata come già stato detto sono 40 anni di una guerra di mafia che fece quasi mille vittime e vittime anche illustre come è stato già ricordato sono 30 anni però quest'anno sono 30 anni dalle stragi del 92 seguite all'approvazione in sede definitiva di quella famosa sentenza che concludeva il massiprocesso il quale è stato reso possibile grazie alla legge Rognoni la Torre se non ci fosse stata quella legge non si sarebbe potuto tenere il massiprocesso come ricordiamo sempre e se non ci fosse stato un gruppo minoritario molto minoritario di magistrati guidati da Rocco Cunnici che paga pure con la sua vita che aveva collaborato anche all'elaborazione del disegno di legge abbiamo accompagnato in tanti compreso me Piola Torra a discutere con Rocco Cunnici dell'impostazione del disegno di legge nell'80 non ci sarebbe stata appunto la possibilità di avere oggi ancora gli occhi che guardano al futuro grazie alla legislazione antimafia che è nata da quella legge come è stato detto nel recente convegno internazionale promosso al centro Piola Torra assieme alla facoltà all'università di Palermo quella legislazione oggi può essere a valore internazionale non a caso è stato ricordato qui anche all'ambasciatore è la madre di tutta la legislazione antimafia dopo 122 anni la parola mafia nel codice penale italiano non c'era né dopo la riforma di Zanardelli né dopo quella di Rocco né dopo quella successiva la parola organizzazione criminale di stampo mafioso nasce appunto col disegno di legge approvata dopo l'uccisione del prefetto Calabretto della chiesa e le stragi del 92 sono la vendetta di quella mafia che era stata punita incarcerata condannata col basso processo quindi non parliamo più della mafia di 40 anni fa è stata sconfitta è stata cancellata ma le mafie esistono perché uno dei principi affermati dal dal lavoro di costruzione del pensiero antimafioso come l'ha realizzato Piola Toro sulla base della sua esperienza sindacale politica che apparteneva a una generazione non era l'unico era l'espressione di una generazione che si era impegnata in quel tema dall'antimafia di classe erano riusciti a farla diventare un'antimafia trasversale tra le classi e il nodo politico che non è stato risolto e che oggi è ancora presente e ci consente appunto di poterle parlare è quello che la mafia non soltanto è un'organizzazione criminale così con quella fatta in specie per avere l'appellativo mafioso deve avere un rapporto costante strutturale organico con parte della classe dirigente del paese e quando diciamo parte della classe dirigente del paese riguarda quella politica quella economica quella finanziaria e quella sociale questo nodo ancora non è stato rescisso ed è la domanda che poniamo alla classe dirigente attuale è possibile che nel momento in cui in un momento di grave crisi determinata dalla guerra in Ucraina dopo due anni di pandemia che hanno aperto e che come ogni crisi aprono porte alle possibilità di infiltrazione del sistema mafioso l'abbiamo visto durante la pandemia lo stiamo vedendo ora durante la crisi 66 67 giorni di guerra aperta davanti porta di casa nostra come si suol dire bene questo era stato intuito con quella visione che Piola Torre tradusse nel disegno di legge la mafia è questo l'avevano spiegato anche già nell'ottocento quindi non era un'invenzione teorica i due sociologi giovani sociologi dalla destra storica erano venuti in Sicilia a esplorare qui cos'erano questa cosa e hanno scoperto che i mafiosi non erano quelli che sparavano quelli erano dei criminali a soldo i mafiosi erano appunto i possidenti quei latifondisti si facevano appunto difendere da una parte di gruppi armati non a caso nella relazione di minoranza più la torre scrisse quello che tutti voi sapete che la mafia è un fenomeno afferente alle classi dirigenti questo è il punto cardine una parte della classe dirigente ha autorizzato questo potere criminale e continua a autorizzarlo in forme diverse naturalmente perché l'economia è più globalizzata è più finanziarizzata bene e loro si sono adeguate a questo ecco perché noi abbiamo lavorato ringraziamo l'organismo dell'ONU che ci ha riconosciuto anche questo questo lavoro abbiamo tentato con le nostre modeste risorse forze le nostre modeste energie con una grande collaborazione nel mondo accademico di tutta Italia di scienziati sociali economici e così via con la collaborazione e la presenza delle scuole noi in questi due anni di pandemia abbiamo siamo state supportate nel progetto educativo da ben 600 scuole medie secondarie di secondo grado compreso quelle delle case circondariale ben 17 aderiscono e ci sostengono abbiamo raggiunto per ogni videoconferenza oltre 140 mila studenti non sono titoli da giornali e non vogliamo questo tipo di propaganda noi vogliamo contribuire all'unica agenzia educativa importante qual è la scuola con il nostro modesto contributo per ampliare il loro lavoro di diffusione di una coscienza civica di fornigli gli strumenti critici per comprendere che cosa sono le nuove mafie perché noi abbiamo detto abbiamo dato il nostro modesto contributo come generazione per sconfiggere la mafia di 40 anni fa quelle nuove spetta purtroppo a questi ragazzi se vogliono cancellare dal loro futuro ogni presenza di ingiustizia sociale di povertà di indebolimento della democrazia debbano cancellare anche le mafie questo è il passaggio generazionale che noi vogliamo alimentare che riguarderà anche il centro Piola Torre nella sua direzione perché cresciamo tutti come si vuol dire ma dobbiamo crescere con la consapevolezza di lasciare qualcosa disseminato che possa risorgere fare risorgere quello che ci ha alimentato per noi Piola Torre come Rosario di Salve come tutte le altre vittime ci hanno insegnato una cosa fare il proprio dovere non perché si sentivano eroi Piola Torre non si è mai definito non si è messo la marchetta che era antimafioso tutti siamo stati antimafiosi perché tutti abbiamo fatto o meno quelli che l'abbiamo fatto naturalmente la battaglia contro l'ingiustizia sociale contro la disuguaglianza contro la povertà contro ogni forma di arricchimento illecito per questo ci siamo trovati contro la mafia perché appunto i mafiosi sono a difesa di quel sistema che noi abbiamo combattuto questo è il punto fondamentale su cui noi abbiamo deciso che i relatori della manifestazione sono i nuovi giovani che abbiamo cercato di aiutare in questo processo di comprensione del fenomeno perché loro si rendano protagonisti delle future battaglie per liberare questo paese per rafforzare la democrazia per conservare la pace perché la pace come è stato detto dal Presidente che ringrazio del Presidente della Repubblica che ringrazia insieme a tutta l'altra autorità perché non ci dimentica mai nel nostro nel nostro lavoro e ce lo ricorda e ci sostiene è come lo dice anche il Papa Francesco che sembra l'uomo più a sinistra in questo momento del pianeta che ci dà la lezione senza pace si indebolisce la democrazia ogni crisi apre le porte alla speculazione apre le porte alla disuguaglianza alla crescita delle povertà compreso le porte alla mafia ecco il nostro augurio a voi giovani e dire prendete questo messaggio questo testimone fatevi protagonisti come noi abbiamo tentato di farlo in questi anni per poter vincere questa battaglia di libertà di democrazia di uguaglianza grazie grazie Vito e allora prima di dare la parola ai veri relatori cioè agli studenti ho visto arrivare il Presidente dell'Assemblea Gianfranco Miciche vuole intervenire adesso per un saluto Presidente ok Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miciche sono con pochissima voce che vi fa capire come ho passato la nottata lavorando e gridando per il motivo del mio ritardo di cui scusa a tutti avrei salutato anche con piacere il Segretario Letta saluto tutte le autorità presenti un intervento di un minuto perché non c'è bisogno di dire altro il mio grazie a Vito lo Monaco è un grazie che parte già cinque anni fa la prima volta quattro forse quattro anni fa fu la prima volta in cui Vito chiese all'Assemblea regionale di commemorare Pio la Torre per me fu un segnale importante perché normalmente questo era sempre stato il palazzo del malaffare il palazzo della collusione con la mafia con questa richiesta di di Vito lo Monaco come dire mi venne un attimo di speranza disse può essere che per e Vito dire questo buongiorno a tutti buongiorno per dire questo Vito può essere che qualcosa è cambiata ebbene Vito ti devo dire che in quell'occasione come fu riconosciuto anche da allora Emanuele Macaluso che era presente alla commemorazione era il primo anno dell'Assemblea regionale e già ci vantavamo pensate specialmente voi giovani già ci vantavamo che non so da quante regillature non c'era mai stato un primo anno dell'Assemblea regionale in cui nessuno veniva arrestato oggi siamo arrivati all'ultimo siamo al quinto anno e caro Vito sono felice di poter dire che quel cambiamento che abbiamo auspicato in tanti per cui Piola Torre è stato ucciso per cui tanti altri hanno pagato con la vita ora non dico che sia risolto che sia concluso il lavoro però non c'è dubbio che siamo sulla buona strada perché se oggi al quinto anno nessun deputato regionale è stato accusato di mafia evidentemente è un'altra classe dirigente vuol dire che c'è stato comunque un cambio vanno bene non è detto sono tutti bravi onesti non è detto però non c'è dubbio che qualcosa è cambiato e che quindi il sacrificio di Piola Torre il sacrificio di tanti altri cominciano a dare loro frutti sono iniziate è iniziato nella testa della gente nella testa dei cittadini e anche della politica un vero cambiamento un vero cambiamento verso una pulizia verso un'onestà diversa e mi fa piacere anche dirlo perché qualcuno si vanta che nel governo non è successo niente non è successo niente nella politica quindi non ci sono esclusività di onestà è sicuramente migliorato il sistema della politica siciliana che si è migliorato qualitativamente non ne sono sicuro ma che si è migliorato almeno scusate almeno da questo punto di vista comincia a essere quasi quasi certo per cui sono molto felice di essere ancora in questo ultimo anno di legislatura qui presente insieme a Vito insieme a tutti voi per commemorare Piola Torre mi è stato fatto fare pure una parte come dire strana perché mi è stata affidata la parte del Presidente dell'Assemblea che si arrabbiava con Piola Torre in un film per cui nel film sul delitto Mattarella ho fatto personalmente la parte di quello che gridava Piola Torre la prego di stare zitto una regola la torre non le consento di andare avanti e quindi ho avuto questa stranissima parte diciamo della mia vita anche se cinematografica che per fortuna è durata poco anche perché ieri abbiamo avuto Rupert Everett qua che sarebbe stato un po' più preparato di me nel fare nel fare l'attore però quella parte di Presidente dell'Assemblea me l'hanno fatta fare quindi grazie a tutti buon lavoro ancora grazie ancora grazie Vito grazie a te grazie a quello che fate quotidianamente non so se la lotta la mafia è vinta o no non mi interessa mi interessa che sia cambiata la mentalità perché se la mentalità è diversa la mafia si trova male comunque si trova male la mafia può migliorare solo laddove c'è gente disponibile oggi mi sembra che in Sicilia disponibilità ce ne sia molto meno quindi grazie ancora grazie a tutti e un abbraccio e buon lavoro grazie al Presidente una notte complicata Presidente per la sessione di bilancio è vero non ne possiamo parlare ma sappiamo che è quella la faccenda preferisce non parlarne va bene le piace non parlarne e allora abbiamo detto che chiuderemo con gli studenti relatori li convoco tutti e tre qui uno studente di Palermo uno di Fondi e uno di Como ciascuno si presenterà col proprio nome sono sei benissimo al raddoppio non c'è problema siamo qui per loro allora ciascuno dovrà per favore presentarsi dire da dove proviene e da quale scuola d'accordo? prego buongiorno a tutti mi chiamo Marco Brizzi frequento la quarta del liceo scientifico indirizzo scienze applicate presso l'istituto Antonio Pacinotti di Fondi in provincia di Latina buongiorno a tutti mi chiamo Sofia Popolla e frequento anche io il liceo delle scienze applicate dell'istituto Antonio Pacinotti di Fondi e il quinto liceo buongiorno a tutti io sono Laura Peluzzi del liceo Teresa Ciceri di Como dell'indirizzo economico sociale buongiorno a tutti io sono Rocca Jacopo e frequento anche io il liceo Teresa Ciceri di Como buongiorno a tutti sono Elena Noto della quarta del liceo classico Vittorio Emanuele II buongiorno a tutti sono Mattia Pardo frequentante della quarta del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo un po' di campanilismo giocano in case ragazzi dai e allora il primo intervento chi vuole cominciare gli ospiti dai la giovane ospita allora prima di iniziare il mio intervento ci tenevo a ringraziare coloro che ci hanno dato l'opportunità di partecipare a questo incontro oggi e anche consentendoci di visitare la meravigliosa città di Palermo e poi un saluto generale alle autorità presenti ci troviamo qui oggi per ricordare il quarantesimo anniversario dall'uccisione di Piola Torre e del suo autista Rosario Di Salvo e sicuramente Piola Torre rappresenta il guerriero per eccellenza nella lotta contro le mafie e le radici di questo suo spirito combattente affondano nella sua infanzia poiché lui crebbe a diretto contatto con il mondo contadino e fu proprio in questo contesto che riuscì a sviluppare la sua volontà di lottare a fianco dei più deboli e l'amore per la giustizia attraverso il progetto antimafia promosso dal centro studio di Piola Torre ho avuto l'opportunità di conoscere appieno la figura di Piola Torre e di accrescere in me una sensibilità maggiore sia nella vita quotidiana che ovviamente poi nelle tematiche affrontate per commemorare al meglio la sua figura ho intenzione di citare un'intervista a cura di Gio Marrazzo del 1979 in cui lo stesso Piola Torre afferma noi proponiamo la revisione di tutto il sistema di sorveglianza e poniamo l'attenzione sull'illecito arricchimento è proprio lì che dobbiamo mettere i riflettori questa affermazione si concretizza poi nella legge Rognoni-La Torre legge che viene approvata il 13 settembre del 1982 e che sancisce la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza proprio con il progetto educativo antimafia ho avuto la possibilità di capire l'importanza di questa legge anche a 40 anni di distanza e quindi anche nel presente inoltre recentemente ho avuto la fortuna di intervistare e conoscere Don Francesco Fiorillo che è rappresentante dell'associazione Libera Sud Pontino che proprio a proposito di questa legge ha affermato questa legge ha continuamente bisogno di essere tutelata e protetta il processo che porta alla confisca di un bene mafioso è ancora troppo faticoso inoltre è stata aggiunta una clausola che apparentemente può sembrare un bene ma in realtà è un qualcosa di molto pericoloso in quanto è stata data la possibilità di affidare un bene confiscato ad un privato così c'è un'ampia possibilità che i mafiosi riescano a recuperare questi beni queste parole mi hanno spinto a riflettere sull'importanza del destino delle terre confiscate ai mafiosi sicuramente tutti voi siete già consapevoli del fatto che nel mio territorio la mafia è fortemente radicata e tantissimi sono i beni confiscati ad essa infatti in base al quinto rapporto mafia nel Lazio presentato a Roma nell'ottobre del 2021 viene affermato che sono oltre un centinaio i clan attivi nella regione e ci sono anche ovviamente dei riferimenti alle zone in cui l'attività mafiosa è più presente e inoltre questo rapporto continua poi facendo riferimento all'attuale situazione quindi la pandemia del coronavirus e afferma che non c'è dubbio che la crisi sanitaria scatenata dal covid e le sue drammatiche conseguenze economiche e sociali abbiano già aperto nuovi spazi per la criminalità organizzata ecco perché oggi più che mai dobbiamo essere uniti e fare muro su tutte quelle forme di disagio che rappresentano da sempre il terreno più fertile per ogni organizzazione criminale il messaggio emanato da queste parole è proprio l'unione deve essere l'intera umanità a lottare contro questo mostro dalle mille teste di cui ognuna rappresenta il suo insediamento nella società e la diffusione della mafia a Macchiadolo sicuramente nel nostro territorio ha influenzato anche le condizioni di vita e in questo ci darei un autore del Settecento che è Giuseppe Parini in cui grazie alla sua opera La salubrità dell'aria dimostra che la situazione rispetto a centinaia di anni fa non è cambiata perché così come la salute pubblica veniva sacrificata per il foraggio di lussuose pariglie di cavalli che calpestavano i pedoni i quali cadono sotto le ruote delle carrozze al giorno d'oggi ancora l'uomo accetta un'economia basata solo sul proprio interesse e non sul bene dell'umanità e questo continuerà se noi viviamo in una società in cui domina quella che da Hobbes veniva definita homo homini lupus ogni uomo è lupo per un altro uomo quindi in questo deve esserci una svolta uguaglianza giustizia e legalità al posto di corruzione mafia e potere lascio la parola al mio compagno concludendo il mio intervento con una citazione proprio di Piola Torre che ci illumina la nostra vita di speranza per il futuro e questa è noi ci abbattiamo per avviare un processo nuovo di sviluppo dell'economia e della società che possa garantire una vita migliore a tutti i siciliani prefiguriamo un tipo di società in cui possano essere soddisfatte le aspirazioni le esigenze e i bisogni delle nuove generazioni dei giovani e delle ragazze siciliane grazie complimenti buongiorno anche io ovviamente vorrei ringraziare le autorità presenti e il centro studio di Piaola Torre per l'importante occasione che ci è stata offerta all'interno del mio intervento vorrei parlare di due mie riflessioni la prima riguarda la mentalità mafiosa che talvolta si annita anche se in maniera inconsapevole nella mentalità della nostra popolazione il secondo punto la seconda riflessione invece si basa sulla percezione del fenomeno mafioso che la popolazione del nostro territorio cioè del Basso Lazio ha delle organizzazioni mafiose perché parlo di mentalità mafiosa parlando di mentalità mafiosa mi riferisco a tutti quegli atteggiamenti quegli insieme di abitudini di comportamenti cattivi che si accostano al mondo mafioso ma che chiaramente non hanno nulla a che vedere con il vero e proprio reato mafioso perché ben sappiamo che i reati mafiosi sono altri mi viene in mente la logica della raccomandazione molto spesso la popolazione pensa alla strada più semplice alla scorciatoia e magari evita la strada della correttezza quella in cui vengono principi quali la meritocrazia la cosa peggiore è che questo tipo di mentalità è molto diffusa tra i ragazzi i quali nascono e crescono all'interno di famiglie che li educano a determinati pensieri a determinate tipologie di comportamenti per combattere per cominciare per combattere la mafia dobbiamo cominciare proprio da questo dai nostri comportamenti dalle nostre abitudini prima dobbiamo risolvere le nostre cattive abitudini per poi approcciarci ad una lotta contro un nemico maggiore ovviamente la seconda riflessione invece si basa sulla percezione che la nostra popolazione la popolazione del sud pontino del basso Lazio ha del fenomeno mafioso noi veniamo da Fondi Fondi è un paese in provincia di Latina che è sede di uno dei centri agroalimentari più importanti d'Europa e di conseguenza è diventata nell'arco del tempo una sede importante per gli affari luoschi della malavita delle organizzazioni criminali nel corso degli anni abbiamo osservato numerosi eventi che attestano un'importante presenza criminale nel nostro territorio come ha citato la mia compagna nel rapporto antimafia chiaramente sono ben descritti mi vengono in mente società confiscate bombe posizionate davanti alle serranti di negozi comunque eventi che testimoniano un'importante densità mafiosa talvolta però durante questi questi episodi l'opinione pubblica ovviamente aveva paura insomma c'era l'opinione pubblica è stata scosta solamente nel momento in cui questi eventi si sono verificati col passare del tempo è come se questa paura si fosse dissolta quasi come se noi non volessimo accettare quella che è la realtà cioè che la densità mafiosa nel nostro territorio sta aumentando e che dobbiamo fare in modo che questo si fermi insomma che questo non accada ma non possiamo sperare che il tempo faccia il suo corso e che risolvi i problemi in maniera autonoma dobbiamo agire nel momento in cui gli eventi si verificano e chiaramente tutto questo deve provenire prima di tutto dai ragazzi dalla scuola perché ovviamente tutto parte da lì bisognerebbe analizzare in maniera precisa e dettagliata gli eventi nel momento in cui accadono bisognerebbe analizzare i soggetti le cause soprattutto le modalità con i quali quegli eventi quei crimini si sono svolti d'altra parte per combattere un nemico che agisce tacitamente agisce nella segretezza come fa la mafia bisogna conoscerlo in tutte le sue piccolezze in tutti i suoi soggetti ma soprattutto nelle sue modalità per concludere il mio intervento posso affermare che oggi in quanto quarantesimo anno dalla morte di Piero Adorre e Rosario Di Salvo ma tutti i giorni della nostra vita dobbiamo seguire e dare il buon esempio perché solamente partendo dai nostri comportamenti possiamo cominciare a combattere il mondo mafioso complimenti ragazzi che parlano a braccio è una cosa bella prego anche da parte mia del mio compagno un saluto e un ringraziamento a tutti mio padre non era ossessionato dalla mafia queste sono solo alcune delle parole con cui Franco Latorre descrive la vita del padre Pio parole che hanno particolarmente colpito la coscienza di noi giovani che siamo chiamati a conoscere quarant'anni dopo la sua morte l'uomo e il politico ucciso dal terrorismo mafioso fa autore di quella legge che oggi porta il suo nome la quale introdusse per la prima volta all'articolo 416 bis del codice penale il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso un uomo politico dunque un dirigente di un partito ancora prima un sindacalista il quale ad un primo sguardo rappresenta per tutti una persona che ha dedicato la propria vita interamente alla lotta contro la criminalità organizzata tutto questo è corretto la biografia di Pio ruota attorno alla mafia ma la sua carriera va anche oltre si tratta di una carriera scandita da differenti attività nella quale si è battuto prima in Sicilia e poi a Roma come deputato nazionale in prima linea nella lotta per la terra condotta nelle campagne siciliane fino a quella per la casa perseguita nelle città da quella contro il terrorismo mafioso che fece vittime eccellenti anche tra i suoi collaboratori fino alla sua ultima grande sfida quella per la pace contro la guerra contro le armi contro i missili a comiso ma ciò su cui un cittadino un suo giovane ricercatore dovrebbe interrogarsi non riguarda quanto la torre abbia voluto contrastare la criminalità nel corso della sua carriera per meglio comprendere la sua vita bisognerebbe piuttosto domandarsi quanto la criminalità di stampo mafioso sia un fenomeno pervasivo e subdolamente capace di allargare il raggio dei propri interessi dalla protezione del latifondo alla speculazione edilizia dalla droga alla prostituzione dalla collusione politica fino alle infiltrazioni nell'economia legale sfruttando proprio quell'area grigia collusa con una mafia che è ormai globalizzata meno violenta la quale si presenta alle imprese come un utile socio efficace a vincere la concorrenza ma in realtà protesa al solo scopo di cannibalizzare le aziende sostituendosi all'imprenditore Piola Torre è stato in grado di cogliere tutte queste evoluzioni non perché le cercasse gli unici elementi di ossessione nella vita di Pio sono stati i diritti delle persone il loro riconoscimento nei confronti degli ultimi degli emarginati degli invisibili semmai fu la mafia nel suo tentativo di sostituirsi allo stato di diritto a comprimere e in alcuni casi a sopprimere totalmente le libertà e la dignità dell'uomo dei lavoratori di donne e bambini l'eredità di Piola Torre infatti deve servire soprattutto alle future generazioni per comprendere come la mafia nelle sue varie declinazioni non sia un fenomeno frutto di una cultura e di radici strettamente legate al sud Italia la mafia come ricordano ormai celebre espressione coniata da Falcone è un fatto sociale cioè frutto di precise dinamiche umane basate su una distorta visione degli interessi dell'individuo i mafiosi prendono possesso del territorio dimostrano alla popolazione di poter gestire la sicurezza delle strade la concorrenza economica la penuria abitativa il welfare mafioso però non si limita a rimuovere gli ostacoli della vita economica e sociale richiede invece a quello stesso territorio di contribuire alle proprie attività offrendo i suoi figli come nuova manodopera criminale richiedendo il pagamento del pizzo offre un presunto ordine punendo qualsiasi forma di devianza con omicidi e violenze perché i tribunali mafiosi non prevedono né difesa né forma alcuna di appello ecco allora dimostrato il motivo per cui ogni qualvolta la torre si sia impegnato e speso per la società civile al fine di ottenere e difendere in modo sostanziale le garanzie costituzionali delle persone si è ragionevolmente trovato a combattere contro lo spettro della criminalità mafiosa intimidazione ed interesse personale sono comportamenti anticostituzionali e come tali non possono far parte del vivere comune purtroppo una certa pedagogia mafiosa ci vorrebbe far interpretare se stessa come un'associazione schierata a fianco del cittadino che non si macchia di omicidi di donne e bambini valida alternativa allo stato tanto al sud quanto al nord la torre nel cogliere la dimensione economica delle mafie riuscì a mettere in evidenza con una straordinaria lungimiranza la sua evoluzione nel nuovo millennio la legge rognoni la torre infatti è uno strumento chiave di interpretazione delle recenti trasformazioni della criminalità nonché del suo sempre più rilevante spostamento verso l'estremo nord laddove le mafie possono meglio sfruttare quei legami collusivi con l'economia legale e con la punta avanzata del capitalismo dello stivale oggi più che mai tali infiltrazioni rappresentano un rischio superata la fase più critica della crisi pandemica l'Italia insieme al resto d'Europa deve ripartire attraverso un consistente piano di investimenti economici il Next Generation EU rappresenta dunque uno slancio economico di essenziale importanza per il futuro sviluppo della nostra penisola ben 191 miliardi di euro sui quali la malavita sfruttando i propri meccanismi criminosi vorrà mettere mano è necessario impedire ad ogni costo la realizzazione di tale ipotesi come fece comprendere la torre in Parlamento la collusione politica l'intimizzazione e le violenze sono solo gli strumenti delle organizzazioni il vero motore della mafia è da sempre l'illecito arricchimento solo sradicandone le basi economiche è possibile affamare l'organizzazione e dunque resciderne ogni impossibilità di rinascita la realizzazione di Piola Torre non è però utile alla sola antimafia come ebbe a dire egli stesso durante la manifestazione per la pace di Palermo del 4 aprile 1982 questa manifestazione popolare è segno di una maturazione delle coscienze di una consapevolezza delle gravità che incombono sulla Sicilia una lotta che si configura per il diritto alla vita al lavoro alla sicurezza contro la droga contro la violenza contro il terrore il terrore appunto di un conflitto oggi come allora nucleare che ancora una volta incombe sulle nostre vite si ripresenta tra noi il vento gelido della guerra provocato da qualche potente che tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese di interessi nazionalisti provoca e fomenta conflitti le guerre sono spesso il frutto di scelte le guerre non sono spesso il frutto di scelte improvvise prive di una qualche riflessione le guerre sono originate da pianificazione compravendita di armi pressioni diplomatiche la torre nell'82 si è mosso senza cedimenti riuscendo ad interpretare i missili di Comiso come un indizio di un futuro conflitto nel Mediterraneo oggi più che mai a fronte delle recenti dinamiche mondiali abbiamo bisogno di riaffermare il valore della pace perseguendo a tale scopo l'esempio virtuoso e la risolutezza di la torre un leader politico in grado di trasformare una protesta locale in un movimento di pace internazionale più la torre quindi può e deve ancora oggi essere un esempio di cittadinanza consapevole di se stessa delle proprie criticità e dunque per questo motivo pronta a scendere in campo anche solo per prendere una posizione dalla parte della rinascita economica senza infiltrazioni della pace senza esitazioni dello stato di diritto senza interessi particolari ecco perché oggi siamo noi giovani a ringraziare chi a partire da quel 30 aprile 1982 si impegna a conservare e divulgare la memoria di Pio La Torre il centro studi in prima persona la famiglia gli uomini dell'istituzione e tutte le associazioni del terzo settore coinvolte grazie ai quali è possibile non solo celebrare ma soprattutto ripercorrere ogni giorno il suo esempio vorremmo poi elaborare un ultimo pensiero relativo appunto ai progetti video che oggi il centro studi sta premiando questi progetti in effetti ci consentono di affermare che ancora oggi a distanza di 40 anni dalla sua scomparsa non solo possiamo ma dobbiamo ringraziare Pio La Torre soprattutto per l'eredità che ci ha lasciato in una video intervista che abbiamo realizzato in un bene confiscato nel Comasco uno dei residenti della struttura definiva il bene sequestrato come un bene comunità perché diceva la nostra casa la casetta di Timmi è aperta a tutte le persone in effetti forse inconsapevolmente a Vier la persona in questione riuscì a cogliere lo spirito della Rognoni La Torre cioè una legge che non solo in qualche modo restituisce una sorta di appunto risarcimento alla società un bene una società depredata ma vincola questa restituzione ad una finalità sociale di quel bene che va in netta contrapposizione a quello spirito invece individualistico di interesse personale peraltro attuato con mezzi violenti e criminosi e quindi questi progetti come in generale la testimonianza di queste associazioni ci devono aiutare a cogliere questi valori che erano gli stessi con cui Piola Torre 40 anni fa era mosso e che noi oggi appunto celebriamo grazie mi viene da dire ammazza che bravi ragazzi complimenti insomma se questa sarà la nostra classe dirigente del futuro io ci metto la firma prego oggi siamo qua a celebrare il quarantesimo anniversario della morte di Piola Torre una figura cardine della storia non solo della nostra Sicilia ma anche di tutta l'Italia noi siamo i componenti della classe quartè del liceo classico Vittorio Emanuele secondo di Palermo ed è stato delegato di leggere a noi le seguenti riflessioni scaturite dall'esperienza da noi condivisa con il centro studi Piola Torre lungo il corso di quest'anno scolastico la nostra classe durante quest'anno scolastico ha seguito un percorso di EPCTO svolto in collaborazione col centro studi Piola Torre il percorso attraverso varie attività e videoconferenze ci ha consentito di conoscere meglio l'impegno politico e le battaglie di questa splendida e profetica personalità che è stato Piola Torre approfondendo la sua opera abbiamo conosciuto in modo corretto il fenomeno mafioso liberandolo da furvienti stereotipi e consolidati pregiudizi che spesso sono funzionali alla mentalità mafiosa il nostro percorso è partito dalla conoscenza della figura di Piola Torre e del suo impegno sociale e legislativo egli col sacrificio della sua vita ci ha lasciato una preziosa eredità la legge rognoni la torre che ha significato uno spartiacque fondamentale nel riconoscimento e nel contrasto al fenomeno mafioso essa istituisce per la prima volta nel codice penale il reato di associazione di tipo mafioso unitamente alle indagini patrimoniali e alla confisca dei beni ai mafiosi le conferenze proposte dal centro ci hanno permesso di conoscere la realtà attuale della nostra società siciliana e di capire come la pandemia abbia causato ulteriore povertà nelle famiglie scarsità di lavoro e di cibo e abbia rafforzato la presenza delle associazioni mafiosi abbiamo imparato che per combattere la mafia non bastano solo i poliziotti che sono preziosissimi non bastano solo i giudici che svolgono un lavoro difficilissimo e pericoloso non bastano solo gli imprenditori che producono ricchezza pulita e lavoro per la gente non bastano solo i politici che dovrebbero tenere alta l'attenzione sulla mafia fare giustelaggi e rendere la macchina amministrativa impermeabile alle infiltrazioni dei mafiosi e malavitosi e purtroppo non sono moltissimi i politici con queste caratteristiche abbiamo anche imparato che è necessaria più cultura più impegno della società civile della chiesa e di tutti i cittadini uniti contro l'illegalità una delle conferenze che ci ha molto interessato è stata la problematica della differenza di genere e della violenza subita da molte donne ma anche da diversi uomini abbiamo preso coscienza che la violenza di genere non è un problema privato o soltanto femminile esso è un problema sociale perché ha a che fare con le violazioni dei diritti umani spesso le storie legate alle violenze domestiche subite da molte donne accentuate si durante la pandemia non sono raccontate abbastanza dai giornalisti nell'ambiente mafioso la situazione su questo versante è ancora più grave infatti in esso si tende ad annullare completamente la figura della donna la pandemia questa maledetta pandemia lasciatemi dire la pandemia ha fatto sì che la malavita organizzata facendo leva sui disagi delle famiglie che hanno perso il lavoro o che vivono un momento di particolare bisogno economico continuasse ad arricchirsi al loro spallo e approfittasse delle diverse crisi aziendali al fine di opporci a questo fenomeno di morte di corruzione di cattiveria diciamo tutti i valori negativi possibili immaginabili è necessario ideare un nuovo modello di sviluppo che preveda il protagonismo di tutte le classi sociali specialmente quelle che subiscono le decisioni dei potenti e che sono state escluse da questa forma di governo in tutti gli anni passati occorre la nascita di nuove politiche che siano meno egoiste e che abbiano un'idea di democrazia partecipata quindi un coinvolgimento maggiore del popolo e delle decisioni che devono essere prese dallo Stato quello che serve è un vero e proprio schieramento progressista che si ponga come obiettivo una nuova idea di lavoro di scuola di società in cui la dignità di ogni singolo individuo venga riconosciuta non calpestata e non gerarchizzata molto interessante è stata la conferenza sull'evoluzione delle mafie dal novecento dall'introduzione nel vocabolario della parola mafia fino a oggi questa conferenza ci ha fatto riflettere sulla natura della mafia stessa e su come si sia diffusa così tanto anche nelle regioni che vengono considerate più civilizzate facendo un esempio abbastanza noto la Lombardia al giorno d'oggi purtroppo smontando il pregiudizio della presenza delle associazioni mafiose solo nelle aree più rurali povere e meridionali abbiamo preso coscienza che la mafia non è un fenomeno del sottosviluppo infatti essa oggi prospera molto bene ed è presente infatti nelle regioni ricche al nord Italia e in nazioni sviluppate come Germania o gli USA dobbiamo pensare che il fenomeno mafioso cerca sempre nuove fonti di denaro nuovi proventi nuove possibilità di crescere quindi questi sono gli ambienti più favorevoli per esso abbiamo capito inoltre che la legge erogne di la torre è stata la risposta organizzata dello stato al fenomeno mafioso e la decisione di combatterlo ed è grazie a più la torre se oggi la mafia è più in difficoltà e lasciatemi dire senza questa legge noi oggi probabilmente saremmo ancora ai tempi in cui la mafia dominava la città non c'era spazio per la legalità il pilatore è rimasto un politico serio e innovativo che ha smosso le coscienze dei molti siciliani e siciliane lasciando un segno indelebile infatti prima dell'82 era impensabile che qualcuno in questo caso specificamente un comunista riuscisse a radunare centomila persone per andare a protestare contro i missili a comiso infatti il pilatore sapeva che una pace fatta di missili una pace fatta di una guerra fredda era impossibile da sostenere per tanti anni questo infatti oggi è culminato nella guerra in Ucraina che purtroppo vede protagonisti donne bambini uomini anziani trucidati uccisi ci sono così tante cose orribili in questo momento e se il pilatore aveva capito 40 anni fa forse non ha funzionato qualcosa in tutto questo tempo in questo momento non possiamo diciamo la situazione allarmante che c'è oggi diciamo dovrebbe essere presa in considerazione per capire cosa ci ha lasciato più la torre la sua legacy come direbbero gli inglesi la sua eredità ci ha lasciato la passione civile che noi oggi dovremmo portare avanti ci ha lasciato un'ansia di giustizia sociale a favore delle classi subalterne ci ha lasciato una forte tempra morale di un uomo che non era appunto un eroe non era un antimafioso era semplicemente una persona che faceva il suo dovere per la terra che amava per la sua terra per la sua gente e la ricerca della pace e il ripudio della guerra inoltre c'è anche da prendere in considerazione l'invito ad impegnarsi per una cittadinanza attiva per fare tante piccole cose ogni giorno che permettono di allontanarci da questa mentalità mafiosa dall'omertà partendo dal piccolo dalle cose più insignificanti si può fare tanto la torre ci ricorda che tutti noi nel nostro piccolo come cittadini abbiamo il dovere di combattere la mafia perché ognuno di noi è la tessera di un mosaico della storia che abbiamo il dovere di non sotterrare non possiamo continuare ad illuderci che la mafia sia una realtà lontana da noi un affare che non ci tocca ma che tocca alle istituzioni di combattere non possiamo abdicare all'impegno individuale da cui ogni cittadino non deve e non può esimersi senza divenire complice della rete di paura omertà e vile indifferenza su cui la mafia prospera e costituisce il proprio potere se ognuno farà qualcosa allora si potrà fare molto convinti come siamo con padre Puglisi e con Giovanni Falcone che bisogna passare dall'impegno straordinario di pochi eroi all'impegno ordinario e quotidiano di tutti grazie bravi ragazzi vi saluto dicendovi ragazzi siete migliori di noi approfittatene grazie chiudiamo con il primo classificato di questa competizione non competizione mi consentirai è vero Vito alla fine veramente tutti bravissimi il primo classificato è il liceo Ciceri di Como del quale vediamo l'opera ciao io sono Silvia io sono Javier questa è una casa per cui l'attività che svolgiamo è quella di essere casa il più possibile quindi è la vita normale di una famiglia che non è famiglia però cerca di dare le basi di una come dire di una vita il più possibile normale dove i bambini possano sperimentarsi in quello che è la vita ordinaria quindi la scuola per me comunità perché non è solo la nostra casa è la casa di tante persone che arrivano qua quindi TIMI è un acronimo team di identificazione del maltrattamento minorile Milano è stata confiscata circa dieci anni fa a un boss di Monza che poi aveva una serie di beni che gli sono stati confiscati penso che poi tutta la parte sotto della casa invece fosse attrezzata per incontri per riunioni di altro genere come avete visto poi il bunker fuori il magazzino nascosto dove penso si potessero nascoste nascondere persone oggetti cose conoscete per caso questo uomo Piola Torre se questa realtà esiste anche grazie a lui giusta sarebbe interessante anche trovare un modo per spiegare un po' ai bambini questa cosa grazie a tutti grazie a tutti e allora chiudiamo questa splendida giornata dicendo semplicemente grazie a Piola Torre e a Rosario di Salvo se siamo un paese più civile se siamo un paese più moderno lo dobbiamo anche al sangue che abbiamo visto scorrere il loro sangue in questa città una città che ha una forza straordinaria e ha anche al contempo una strana mollezza contro la quale dobbiamo sempre costantemente opporci grazie al modello di uomini così abbiamo immaginato un'Italia diversa che spendiamo anche nel mondo una credibilità sul piano internazionale nella lotta alla mafia che non avevamo dunque grazie a Piola Torre grazie ai figli di Piola Torre Franco La Torre e Tiziana Di Salvo per essere stati qui e grazie al centro Piola Torre che fa un'opera straordinaria con una costanza con una partecipazione quotidiana e con uno slancio verso i giovani che davvero sono ammirevoli grazie Vito davvero ringrazio tutti gli intervenuti grazie alla fondazione Federico II all'assemblea regionale per averci ospitato nel cortile Macheda arrivederci grazie ai ragazzi soprattutto grazie a tutti